Buongiorno cari amici, è la mattina del 18 marzo e guardate io ve l'ho già detto nei giorni scorsi e lo continuo a dire ora e vorrei essere interpretato bene perché se no qua facciamo casino. Oggi mi sono svegliato, ho letto i giornali come sempre, come tutti quanti voi, anzi io li leggo per voi quindi magari vi dico subito il titolo e poi vi dico che cosa mi ha più o meno scandalizzato. Il titolo è il seguente, troppi in giro li puniremo, questo è il titolo del Corriere della Sera, troppi in giro li puniremo. Poi a questo titolo ne associo un altro, quello del messaggero, divieti violati, pene più severe, si arriva fino a 12 anni di carcere se viene trovato qualcuno positivo in giro, 12 anni di carcere, cioè come direbbe Gerardo Colombo no come si chiamava il magistrato non Colombo, avete capito, da vivo, conviene stuprare o uccidere rispetto a essere trovato in giro oggi positivo con il coronavirus. Continuo. Utilizzeranno, hanno utilizzato le celle dei cellulari per vedere quanti Milani stessero nelle loro residenze e quanti fuori. Cioè controllano con una specie di grande fratello se state a casa vostra o state fuori. Quindi si presume che loro sappiano qual è la vostra casa, qual è la vostra residenza, dove state passando il vostro tempo posto che non sta scritto da nessuna parte, ancora siamo in un paese libero, che uno non possa risiedere in un posto diverso rispetto a quello che risulta alla Tim o alla Vodafone o alla E3 o a chi cazzo è il gestore nostro di telefonia. Perché sono un marziano? Perché ragazzi, io sto a casa, io poi sto a casa davvero, io faccio la bandiera italiana, l'Italia è un paese bellissimo, nessuno può discutere le grandi manovre di Casalino e di Conte, però dove vogliamo arrivare? Ragazzi, siamo veramente impazziti, cioè noi stiamo in un momento in cui siamo nel totale coprifuoco e in cui come minimo dobbiamo dire ai nostri cittadini italiani, cari cittadini italiani, scusateci, scusateci se abbiamo adottato queste norme, perché questo è il minimo che si debba fare, lo Stato siamo noi, non il cazzo di Parlamento, non Conte Casalino, chiaro? E dovremmo cercare di essere un pochino più allergici alla violazione delle nostre libertà. Poi dopo si può anche accettare, lo scrive Sofia Ventura oggi sulla stampa, che per certi momenti, per certe cause di ordine maggiore si possa e si debba rompere le regole e le libertà, diciamo, tradizionali e costituzionali, però attenzione, attenzione, se troppi in giro li puniamo, ragazzi stiamo scivolando verso un mondo che mi fa schifo, orrore, sono 700 anni che abbiamo combattuto per le nostre libertà personali, ci sono 2500 morti, tanti, tanti, ma non sono una guerra, tanti, ma non sono quelli che hanno combattuto per la nostra libertà, tantissimi, e ne saranno anche forse il doppio, ma state addenti, perché quando noi rinunciamo alle nostre libertà così facilmente, senza neanche fare ne ha ne ba e accettare che un quotidiano mi scriva troppi in giro li puniamo, è completamente cambiato. E poi io sono straordinariamente, voglio dire, affascinato, perché voi, toc toc, la foto di Casalino con il suo amico, col suo fidanzato, l'avete vista sui giornali? La foto del Papa che gira per Roma, l'avete vista sui giornali? Io non so se lui è positivo o non positivo, ma quando c'è un regime, quando tutti noi dobbiamo stare a casa, c'è qualcuno più uguale degli altri, c'è qualcuno che può non stare a casa. Perché loro sì e noi no? Perché se faccio un po' di jogging qua fuori? Non io, ovviamente, che non ci penso manco proprio, non ci penso neanche minimamente, devo essere visto male, ma se invece la passeggiata la fa il Papa? La fa Casalino, la fa Conte, che l'altro giorno l'ho visto in fila in una foto a comprarsi un hamburger. Allora, perché loro sì e l'Italia no? Io ve lo dico, vi prego, perché c'è ragione Pierantonio, noi prima rinunciamo alle nostre libertà civili, tra poco rinuncieremo alle nostre libertà economiche, perché questi 30 miliardi che abbiamo preso hanno fatto bene a prenderli, io sono d'accordo sui 23 miliardi, in questo momento si devono utilizzare i soldi, ma questi 23 miliardi li pagheremo cari e non saranno neanche sufficienti, perché noi siamo e arriviamo da un mondo con un grandissimo debito e con una incapacità, tra l'altro, di agire sulle cose vere meglio dei 23 miliardi, sarebbe stata una deburocratizzazione, una liberalizzazione totale di questo mercato, e la mia modestissimo avviso, di vieti violati, pene più severe, e il fondo del Corriere della Sera, qual è? L'egoismo non deve vincere. Beh, però bisogna stare attenti, attenzione, a confondere l'egoismo con la libertà, chiaro? Perché il giornalista che scrive l'egoismo non deve vincere, forse, non lo so, non mi permetto di dubitare, ma noi giornalisti abbiamo un piccolo lasciapassare che ti permette qualche volta di andare al giornale, non fare sempre smart working, mentre uno che vive in 25 metri quadri, c'ha l'ufficetto, il suo magazzino, la sua piccola impresa, la sua piccola clare, là, e non ci può neanche dare, vive in quei 20 metri quadrati, magari con un figlio, magari con la moglie, magari separato, magari senza una lira, magari senza nessuno che gli porta da mangiare, ecco, quello là, non so se è egoista, se si va a fare una passeggiatina, non lo so a un metodo di distanza, però le regole si devono rispettare, io non le voglio violare, non le violerò, però almeno non mi prendete per il culo, non si tratta di egoismo, si tratta di ansia, di libertà, perché ve lo chiedo, vi faccio un esperimento e ve lo dico urlando, fra 10 giorni resistete? Fra 15 giorni resistete? Fra 20 giorni resistete? Fra un mese resistete? Questo è il punto, questo è il punto, quanto tempo possiamo farlo? Anche Salvini e compagni erano in giro, bravo Achille, dice, beh, sono andato a fare la spesa. Poi, fantastico, oggi litigano, Travaglio ci fa il pezzo, come tutti gli altri pezzi che ci fa in questa settimana, dicendo che aveva ragione Conte, che è il più bravo di tutti, tutto il mondo lo sta seguendo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità è il più bravo di tutti, non sono d'accordo, la sanità è al collasso, ma scusatevi, il fatto che la sanità sia al collasso non c'entra niente con le nostre libertà, ma il punto che la sanità sia al collasso, ve lo dico molto francamente, chi mi ha seguito sono due settimane che sa che dico che si deve fare un ospedale a Milano, c'è qualcuno dei miei amici che mi ha fatto leggendo i giornali, ma non è possibile, non ci sono i soldi, non ci sono le apparecchiature, come mai adesso è possibile? Come mai è arrivato Bertolaso e oggi si fa? Come mai sono arrivati i soldi? Come mai è possibile farlo? Perché le nostre libertà sono violate e quelle del codice degli appalti invece no? Perché una regola si rispetta e l'altra no? Per quale motivo? Perché la regola amministrativa si deve rispettare, quella personale no. Comunque posso dirvi la verità, se voi non avete ansia per le vostre libertà, peggio per voi. Io per la mia libertà ce l'ho molta ansia e l'idea di vedere Casalino col suo fidanzato che girano, e il Papa che girano, mentre noi siamo tutti costretti a casa e se rischiamo 12 anni di galera un po' di brividi mi fanno venire, ma io sono convinto che il 90% di voi non è d'accordo. D'altranto siamo un popolo che non è d'accordo, abbiamo avuto il fascismo, ci piace l'uomo forte e l'uomo forte sarà Conte e Casalino e teniamocelo. Bene, è certo che bisogna rimanere a casa, lo potete capire, anch'io lo so che bisogna rimanere a casa, ma è più importante rimanere a casa o fare un ospedale, secondo voi? Secondo voi è più importante, invece di occuparsi degli italiani che rimangono a casa, di fare gli ospedali, di fare le terapie intensive che non hanno fatto perché non c'erano i criteri degli appalti? Cos'è più importante? Ma lasciamo perdere. Bene, lasciamo perdere, tanto su questo sono un minorato mentale. Sallusti dice che esistono due modi per essere felici, uno è diventare un idiota e l'altro è esserlo già dedicato a Travaglio. Quindi lite sul giornale oggi tra Travaglio e Sallusti, l'intervista al Papa straordinaria perché io la trovo fantastica, anche questa è fantastica. Il Papa che mi dice non sprecare questi giorni difficili. Ti ringraziamo. Io penso tutto sommato che un po' li stiamo sprecando i giorni, ma non per colpa nostra, ma perché c'è un virus e li stiamo sprecando. Avrei preferito non sprecarli. Però se il Papa ci dice è come quelli che ti dicono quando stai male cerca di guarire presto, grazie al cavolo. Se dipendessi da me cerco di non sprecarli questi giorni difficili. Grazie al Santo Padre. È tutto vero, è tutto vero quanto scritto da Fabio Fazio. Allora, se il Papa mi deve spiegare che è tutto vero quanto scritto da Fabio Fazio, io faccio prima. Invece che andare a messa, invece che ascoltare il Papa, mi guardo i programmi di Fabio Fazio. Faccio prima, faccio prima. È più importante, guardi, come si chiama, è sua eminenza. Preferisco guardarmi i programmi di Fabio Fazio, se devo pensare che dobbiamo ritrovare la concretezza delle piccole cose. Lo ringrazio. Vorrei spiegare al Papa che la concretezza delle piccole cose sarebbe abbracciare mio figlio, mia figlia, che sono in quarantena da un'altra parte, come per tante altre persone. Ma comunque, insomma, cerchereò di non sprecare. Prenderò il consiglio del Papa, che oggi sulle Repubbliche lascia a Rodari un'intervista, un bel colpo giornalistico, che ci spiega che dobbiamo ascoltare Fabio Fazio. È quello che io farò nelle prossime ore, invece che ascoltare il Papa. Cosa sta succedendo all'estero? Grande polemica, grande polemica su Macron, sapeva tutto. Macron certo è passato dal, diciamo, come è avvenuto peraltro anche in Italia, da una certa sottovalutazione iniziale a siamo in guerra, siamo in guerra. In guerra muoiono decine di migliaia di persone, ci sono i cararmati, ci sono gli obbi, ci sono i feriti. Siamo in guerra. Siamo in guerra, sì, contro il virus, però cerchiamo tutti quanti di sapere che in questa guerra ci sono persone come me e tante altre che questa malattia se la prendono e poi passa. In guerra, purtroppo, se ti sparano addosso non passa. Qui la guerra è soltanto nel fare gli ospedali, ma questo ne ho già detto a sufficienza. Parigi, grande fuga dalle stazioni, la solita tran tranchi conosciamo anche da Parigi. Londra, nuovi fondi per 350 miliardi. Boris Johnson è passato dall'idea della contaminazione di gregge invece a un'attenzione più all'italiana, anche se rivolta a più anziani, che è un'altra cosa sacrosanta. Cioè, se tu sei in una delle categorie a rischio, bisogna stare un po' attenti. La Francia ha varato un pacchetto da 45 miliardi per evitare che gli scalino le loro società, mentre la Merkel lo trova Italia Oggi, è fantastico, sono dieci righe su Italia Oggi, dice che ci sono 550 miliardi e noi a dire tutti quanto sono fichi, tedeschi, eccetera. Solo che Italia Oggi scopre che sono esattamente gli stessi 550 miliardi annunciati a novembre per la riconversione industriale. Fantastico. Non mi mandate più, per favore. Centinaia di persone mi mandano cure, controcure, russe, jugoslave. Per favore, alimentate solo fake news, cioè balle. Teniamoci chiaro che questa rete non la ingolfiamo con tutte queste robe complottiste che girano per il mondo. Le cose me le raccontate, ce le raccontate gli specialisti, c'è sui giornali, pare che una cura sia un po' più utile degli altri, ma comunque in fase sperimentale. Punto. Tutto il resto, queste catene di Sant'Antonio non sono, non me le mandate i vostri complotti, perché non fanno, come possiamo dire, capisco che ci hanno tolto tutta la libertà, ma non quella del cervello. Quindi anche a casa, vi prego, non c'è l'italiano che scopre la medicina in Russia. Non esiste, chiaro? Invece siamo lì a mandare queste catene di Sant'Antonio della minchiata. A Napoli 249 medici si sarebbero dati malati, finti malati, secondo il fatto quotidiano. Io non è che del fatto quotidiano, soprattutto quando c'è queste cose, diciamo, scandalistiche. L'altro giorno abbiamo trovato, vi ricorderete, sul fatto quotidiano la cura, che non è stata ancora trovata, basta parlare con tutti i medici. Spero che non sia vero per una volta quello che dice il fatto quotidiano, perché se così fosse che 249 medici del Cardarelli a Napoli si sono dati perché hanno paura di prendersi il virus, beh, insomma. Pioggia di soldi è l'altro grande tema che oggi lo pone il giornale, cioè la borghesia, lo scrive anche Marcello Sorgi oggi sulla stampa milanese, si è data da fare, Berlusconi 10 milioni, Caprotti 10 milioni, Barilla 10 milioni, Lavazza 10 milioni, Ruffini 10 milioni, insomma tutti i ricconi di Milano per fare questo nuovo ospedale che io chiedo ai miei amici che mi dicevano ma Nicola, ma continui a dire questo ospedale non si può fare, cioè non è la burocrazia romana, non è la protezione civile, non si può fare, e lo stanno facendo. Allora mi avete preso, allora cari amici che mi avete detto non si poteva fare, si poteva fare se non avessimo perso tempo dieci giorni fa, invece no, andiamo a fare i fenomeni, quello sì è una roba che si deve fare violando tutte le regole, tutte le libertà, perché quello prendi e lo fai, questo serve, invece no. Intesa da San Paolo, io devo fare complimenti a una banca, perché le banche poi alla fine in questo momento sono chiave, perché siccome non guadagniamo un euro, siccome la gente sta chiudendo, siccome non c'è fatturato e non si riescono a pagare le rate, se una banca come intesa, la più importante banca italiana mette a disposizione degli italiani 15 miliardi di euro da subito, 15 miliardi di euro da subito di prestiti, spero che sia facile prenderli, sia facile erogarli, ma è un aiuto concreto per chi non è un euro, la banca poi fa la banca, è un'impresa, quindi metterai 15 miliardi e te li richiederà prima o poi indietro, ma almeno aiuta, è un senso concreto di un aiuto. Decreto fiscale è una roba micidiale, più lo leggi e più fa schifo, vi ricordo che in questo decreto fiscale hanno fatto sì, tra le altre cose, che gli accertamenti per il 2015, cioè le vostre carte del 2015 dovete tenerli per due anni in più, cioè non si chiude in cinque anni l'accertamento ma in sette, e perché? Vallo a capire, hanno aumentato di due anni i termini di decadenza degli accertamenti per il 2015, questo vi dà come sempre la dimostrazione che noi siamo degli schiavi e loro sono dei padroni, poi dopo i 600 euro, dice il ministro del lavoro, Catalfo, andranno anche a quelli che fanno parte di un ordine? No, quindi è straordinario, come dice in un'intervista molto bella il capo dei commercialisti Massimo Miani ad Antonio Signorini oggi sul giornale, si continua con l'idea e col pregiudizio che i professionisti siano dei miliardari, commercialisti, avvocati, architetti, cioè tutti coloro che sono iscritti a un ordine che si dà per definizione che siano dei ricchi signori che non bisogna aiutare, andiamo avanti così, il crollo del PIL è previsto tra il 6 e il 10% e in questo momento nessuno parla dello spread che è a 2,80, ringraziamo, ringraziamo come sempre la Lagarde, poi devo dirvi la verità, questo decreto fiscale come dice oggi fantastico il sole 24 ore, rischio contestazioni future, le proroghe per i versamenti sono un vero e proprio rompicapo, cazzo di agenzia delle entrate, perché questa non è colpa né di Conte né di Casalino, questa è responsabilità di quelli dell'agenzia delle entrate che sempre fanno le norme fiscali in questo paese, toc toc, Ruffini, Ruffini, vieni qua, vieni qua, Ruffini, senti io ho anche avuto parole carine nei confronti del nuovo capo dell'agenzia delle entrate che è stato fatto fuori da Conte per metterci un generale, poi hanno fatto fuori di nuovo il generale e hanno rimesso Ruffini, capo dell'agenzia delle entrate, caro Ruffini, io voglio sapere per quale motivo avete aumentato di due anni gli accertamenti al 2015, caro Ruffini, perché c'è tutto questo rompicapo per le scadenze, caro Ruffini, perché c'è un rischio di contestazioni future e non lo scrive? Libero, la verità, il giornale, lo scrivono Italia Oggi, lo scrivono i commercialisti, lo scrive il sole 24 ore, Ruffini, cosa ci stai a fare là? Beh, insomma, io vi do appuntamento come sempre alla zuppa di domani, ciao!